Ciao ragazzi, siamo qua a Cuenca per fare un aperitivo a base di frutta naturale, vino biologico e tanta simpatia, tante spezie e tanti sapori diversi. Con un aperitivo, un cocktail che sarà per tutta la sera e tapas, una tapas con il tocco italiano però, con un po' di magia italiana per motivare questa presenza in Cuenca. Tapita vegetariana, vegetariana e con carnecita e un po' di fantasia per accompagnarla ai vini e che tutto questo abbiamo sentito.